affrontiamo questo muffin al pistacchio saprà di verde comprato al reparto sul gelato del deco che di solito sempre cose buone perché non provare è morbidosissimo e anche super odoroso ci credo ci credo non voi contatemi la colazione vi prego lo apro così non so come mangiarlo sono indecisa a dentro un passo nel massimo è buono ma forse troppo dolcino barca il cacao non c'è la crema ecco la crema non è tantissima forse è meglio così perché sennò poi è stucchevole forse assaggiamo buona e che bellezza non era buona saperemo nella miglior tema di bisacchio che abbiamo mai mangiato nelle cose confezionate costo 70 centesimi mi pare unica cosa che finirà presto a questo punto potrei provare a comprare finire un altro era integrale però che palle con i frutti di bosco magari buonissimo guarda della granella che non capisco di cosa sia invece siano mandorle l'ultimo morso è quello stra pieno di pistacchio ne parliamo se degli addio buonissimo direi un altro pieno listate sintomizzati per altri assaggi